Non passa più inosservato il bilancio dei furti di moto, scooter e biciclette, che ormai quotidianamente aggiunge alla sua conta nuove denunce presentate a vigili e forze dell'ordine. La razzia dei mezzi a due ruote, motorizzati e non, ha subito un'impennata soprattutto nel mese di agosto e nelle principali settimane di ferie e di vacanze dei pesaresi, con più di un colpo messo a segno al giorno e un totale di diverse decine di mezzi sottratti ai legittimi proprietari. Oltre alle comunicazioni pervenute a polizie e carabinieri, sono aumentati anche gli appelli scritti e pubblicati sui vari canali social dalle persone derubate per provare a rintracciare qualche cittadino che abbia visto raccolto informazioni in merito ai mezzi sottratti. Così è stato per uno scooter Yamaha sottratto proprio ieri sul lungomare Trieste, stesso punto in cui qualche giorno prima era stata segnalata la sparizione di un'onda SH. Stessa storia e stesso modello per un altro motociclo rubato proprio nella giornata di ferragosto nel versante sottomonte lungo la statale adriatica e all'altezza di Bagni Due Palme. Anche in centro e in altri quartieri fioccano episodi simili, come a Pantano quando a metà settimana è stato segnalato il furto di una moto di più grande cilindrata. In base ai dati riscontrati, le aree più colpite da tale fenomeno rimangono però quelle del lungomare, in particolare dal parcheggio situato al termine di Viale Trieste, che una volta ospitava l'ex mini-golf, fino alla zona di Sottomonte, nei punti in cui sostano i veicoli in prossimità dell'accesso alle spiagge. Colpi messi a segno, presumibilmente, da professionisti ormai avvezzi alle pratiche necessarie per sbloccare e deludere il sistema di sicurezza dei mezzi. Secondo diversi cittadini rimasti vittime di questa tipologia di reato, nella maggior parte delle circostanze in cui si verificano i colpi, si registrano anche movimenti e passaggi sospetti di un furgone di cui i ladri farebbero uso per caricare e trasportare l'area furtiva. Una dinamica tale per cui risalire all'identificazione del mezzo e dei malviventi a bordo di questo potrebbe richiedere l'ausilio di dispositivi di videosorveglianza, soprattutto nelle zone in cui i reati si verificano con più facilità. Alla stessa velocità viaggiano anche i numeri dei furti relativi alle biciclette, le cui segnalazioni legate a scomparso o abbandono si ripetono incessantemente. Più decimate anche le possibilità di ritrovamento per le due ruote non elettriche, per le quali i ladri potrebbero adottare lo stesso sistema di carico su un furgone già ipotizzato per gli scooter. L'invito in ogni caso è quello di prestare la massima attenzione nel prevenire episodi del genere munendosi di validi sistemi di sicurezza per il blocco e la chiusura dei mezzi.